Allora coach, si parte il 29 settembre a Piacenza, tu c'è Grotazzolina in casa, Perugia e Trento, che calendario è? Beh, si è andato troppo avanti, è un calendario, pensiamo a Piacenza che è la prima giornata, concentriamoci lì, le squadre vanno incontrate tutte quante indistintamente, quindi non mi soffermerei più di tanto a vedere quando e come, ma mi soffermerei più che altro adesso su questa preparazione che deve iniziare e amalgamare una squadra cambiata molto per vedere subito contro Piacenza e le migliori squadre del campionato a che livello saremo. Dicevi, il 12 agosto si parte con la preparazione, avrai tanti atleti, perché alle Olimpiadi sono assolutamente più cecco, e Gio Sanguinetti, un vantaggio da questo punto di vista avere tanti ragazzi subito? Beh, ci sono due facce, mi sarebbe piaciuto averne molti di più che partecipassero alle Olimpiadi, abbiamo questi, e ci concentreremo su quelli che abbiamo per sviluppare al massimo la squadra nel primo periodo. Che Olimpiadi ti aspetti? Ma, mi aspetto un'Olimpiadi molto bella, mi aspetto che l'Italia sia protagonista.